Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Ricordiamo che in Fipili sono in corso lavori tra Montelupo e Ginestra all'altezza del Turbone. Percorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Per la cantieristica sulla SR2 Cassia, senso unico alternato e restringimenti dal chilometro 2,99 al chilometro 2,91 all'altezza di Tavarnuzze, nel comune di Impruneta, fino al 3 febbraio. Il provvedimento è in vigore H24. Ultima pagina per il traffico ferroviario. L'Intercity 35, 533, Milano Centrale e Grosseto sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. L'arrivo a destinazione è al momento previsto alle 14.53, salvo recupero. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!